ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo tutorial riguardante la versione 3.5 di studio one e in particolare modo il nuovo motore audio infatti con la versione 3.5 abbiamo la possibilità ora di non ascoltare più latenza in monitoring quando registriamo sia gli strumenti midi sia la voce mantenendo però un buffer size estremamente alto cosa che non è possibile fare in nessun altro audio attualmente con questo sistema quindi potremo applicare i plugin audio ai segnali in ingresso e poter quindi avere un monitoring in cuffia degli effetti senza doverli registrare un po come accade nella versione hdx di pro tools dove le schede hdx appunto gestiscono questo tipo di sistema mentre la nuova tecnologia di studio one lavora sul processore interno ma andiamo subito a vedere come funziona aggiungiamo una traccia audio la chiamiamo voce e apriamo immediatamente l'ispector per selezionare il segnale l'ingresso in questo caso sto utilizzando l'ingresso maico adatt 1 al quale ho collegato il 4 e 14 mettendo ora il record dovremo poter ascoltare la latenza per ovviare a questo inconveniente cosa che accade normalmente dobbiamo entrare nelle preferenze di sistema abbassare il buffer della song quindi andare nell'audio setup portare il buffer a 32 samples o anche a 16 in questo caso avremo soltanto un millisecondo di ingresso e 2 millisecondi in uscita quindi un totale di 3 millisecondi e mezzo quindi inascoltabile oppure scendere addirittura anche a 16 ed abbassare ulteriormente questo ritardo portandolo addirittura al di sotto della latenza dell'hdx ci spostiamo poi nel processing dove la seconda parte del motore audio gestisce invece il lavoro interno della do per cui tutta la gestione dei plug in e dell'audio in generale in questo caso portiamo il buffer al massimo rimaniamo a 64 bit abilitiamo il latency monitoring per gli instrument quindi potremo suonare le tastiere o la batteria senza avvertire latenza nonostante stissimo lavorando con un buffer size così elevato sotto nel caso specifico vediamo il raffronto normalmente avremo 131 millisecondi in ingresso e in uscita considerando il round trip quindi il giro completo che l'audio fa all'interno della scheda audio in questo momento abbiamo soltanto 3 millisecondi facciamo ok accertiamoci che l'uscita cuffie non sia stata selezionata nella traccia quindi andiamo su phones chiudiamo l'uscita di send nel qmix cosa che abbiamo già visto in un'altra lezione riguardante la registrazione della voce attivando ora record abbiamo lo senso di phasing dato dal doppio monitor che stiamo ascoltando infatti tornando nella scheda rme togliamo il monitor diretto del maico quindi l'ingresso del preamplificatore ed avremo soltanto l'ingresso che stiamo ascoltando in questo momento in tempo reale attraverso la do ora basterà semplicemente applicare dei plug in per esempio apriamo il nostro fat channel il nuovo plug in che è stato introdotto con questa versione di studio one che è una vera e propria channel strip eccolo qui dove possiamo avere appunto il gate il compressore accendiamolo utilizziamo o il compressore eccolo qui in ingresso in tempo reale o il compressore standard che stiamo ascoltando in questo momento oppure la versione fat attiviamola alziamo la compressione eccola qui ricompensiamo e abbiamo il plug in di fat compressor che sta funzionando in tempo reale sulla voce possiamo utilizzare anche il tube volentualmente selezioniamolo per l'intervento apriamo il gain in ingresso peak reduction eccolo e abbiamo infatti come vediamo a differenza del fat un attacco molto più lento sulla voce sui transienti e proviamo ad utilizzare anche le q quindi adesso applicando la banda dopo as filter ad esempio possiamo ascoltare la voce che viene automaticamente filtrata stesso discorso appare con i rieffetti quindi dopo il channel strip possiamo aggiungere ad esempio accendiamo quindi ora un riverbero utilizziamo in questo caso passiamo al mix sentiamo dei drop perché è estremamente pesante possiamo ovviamente correggere anche questo tornando nella gestione delle risorse e dandoci un limite più basso 32 millisecondi ad esempio già è più sopportabile ci permette di lavorare con gli effetti in questo momento quindi stiamo utilizzando in tempo reale senza latenza senza ritardo la voce in ingresso dal microfono che passa dentro il compressore tube comp attraverso l'equalizzatore post compressore per finire poi nel riverbero ovviamente registrando la voce adesso non avremo questi effetti in recording perché sono posizionati nell'insert del canale e non direttamente nell'ingresso vero e proprio che vediamo qui se avessimo inserito gli effetti in questo punto verrebbero registrati insieme alla voce grazie per aver seguito la recensione della prima parte di questo sistema nella prossima sezione invece ci occuperemo di creare il monitoring e il recording all'interno di una song molto complessa carica di plugin continuate a seguirmi su youtube e su music off ciao a presto a presto